Il mio nome è Enrico Sciulli e lei è la mia cavalla Snips Gotabad. Ho 21 anni, sono nato in un piccolo paese in Alto Molise. Questa passione mi è stata trasmessa sin da piccolo perché mio padre ha sempre avuto i cavalli. È molto critico perché in questi anni di gara mi è servito molto per crescere e infatti anche dopo una gara che è andata molto bene lui trovava sempre quella cosa che però si può fare meglio. Però so che è molto orgoglioso e comunque sono soddisfazioni e quindi lo capisco comunque dalla faccia che fa perché devo dire che non è che me lo dice molto spesso. Mia madre e mia sorella, mia sorella con un messaggio e mia madre con la telefonata qualche ora prima della gara sono sempre lì a sostenermi da casa, a darmi conforto magari in qualche situazione in cui magari la gara è un po' più difficile. Vediamo Seracavalli a Verona dal 25 ottobre al 28. Ciao! 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 Grazie a tutti.